A modo da fronte, ma purtroppo chi sei guai? Io non ti aiuto a scuola, ma tu, ma tu a papà, la strada tu l'hai caputo perfettamente. Guarda che è proprio un padre modello. Fa la cosa, va, va che poi vado a finire i cagli di te, piglio la valigia e farlo, va a fare un film con Marlo e un grande ballerizzo, va. Ma la valigia, tu stai? Uuu, che ne sono piaciuto il filiperto? Non è importanza la valigia, dai, vieni bene, andiamo. Lì avrai un nuovo guardaromba, cocca. Andiamo, vieni, vieni. Ma che l'hai, non mi accompagna nessuno. Va bene, l'hai visto l'accompagna a voi. Ma non è importanza l'accompagnare io a Roma con la mia auto. E lì non sarai mai sola. Andiamo, vieni, andiamo. Forza, cocca, diventerai una star. E' una felicità in mozione. Lascia, o sai che te lì? La mia mamma ha dipinta pari da tutte cose. E vabbè, voi ne parlando, mezza cosa. Sì, sì, sì.